Cari amici di Detto Tra Noi, buongiorno, bentrovati nei nostri studi di Bologna, una puntata dedicata alla cultura, quella di oggi, e ci piace parlare di un festival che è dedicato al mondo antico. Lo facciamo grazie a due graditissime ospiti a cui do subito il benvenuto, grazie per essere nei nostri studi, ad Antonella Sambri della società editrice Il Mulino. Buongiorno. Grazie e benvenuta, anzi bentornata, Valeria Cicala dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna. Buongiorno. Grazie di questo invito. Allora, oggi sono particolarmente contenta perché si fa proprio un tuffo nel passato, nel festival appunto del mondo antico. Valeria, la filosofia è abbastanza chiara dal titolo, è da qualche anno che si fa questa manifestazione? Come edizione quest'anno, Giada. Un evento radicato nel territorio, radicato non semplicemente per quanto riguarda l'orizzonte cittadino, ma un festival del mondo antico. Sì, non poteva che avere una sede come Rimini perché la ricchezza del suo patrimonio, la continuità poi delle architetture fanno veramente di Rimini una città dove conoscere e apprezzare che cos'è la storia, la cultura del nostro paese è veramente eclatante. E per l'antico sicuramente basta citare due segni del paesaggio, il ponte di Tiberio, l'arco di Augusto per ricordarne due. E poi questa continuità bellissima esplode proprio nel Tempio Malatestiano dove questo meraviglioso rinascimento si nutre di quella che è stata la lezione degli antichi. E come è nato proprio a Rimini? È nato dall'idea molto pespicace dell'allora dirigente dei servizi culturali e direttore della biblioteca Marcello Di Bella. Ed è sempre stato visto come un momento di incontro e di dialogo tra passato e futuro, presente e futuro. Non per nulla è il festival del mondo antico ma con questa edizione, questa è l'edizione di quest'anno perché ogni anno si dà proprio un titolo. Quest'anno è ereditare il futuro, il patrimonio culturale tra memoria e d'amnazio. Ma è questa sigla antico presente che dà la cifra di che cosa si vuole fare. Si ragiona su ciò che ci ha preceduto per educarci anche a preparare un futuro per gli altri e anche educare noi stessi. E l'edizione di quest'anno sia un titolo particolarmente significativo perché in questo ereditare il futuro e in questo sottotitolo è sotteso a quella che è l'attuale situazione del patrimonio culturale. che per motivazioni diverse, sia guerra, sia trascuratezza, sia uso sbagliato del territorio, del paesaggio, comunque è continuamente messo a rischio. 18 edizioni, tantissimi ospiti, un confronto serrato e un'apertura grandissima dal mondo della cultura più tradizionale, cioè quello universitario. Sono tanti i nomi, si faranno, sarà Antonella a scendere più nei particolari, all'attenzione a tutti coloro che lavorano nella comunicazione. Un'edizione come questa non può prescindere dai giornalisti, dagli inviati di guerra. E poi sono tante le funzioni che la comunicazione svolge rispetto al patrimonio. Ma sono i libri che si sono presentati, sono i dialoghi che sono nati guardando e partendo sempre da questo paesaggio, da questa città, che se per tutti nell'immaginario collettivo rappresenta soprattutto la vacanza, il mare, la spiaggia, la discoteca, ha saputo in questi anni affermare invece un altro ruolo, il ruolo di una città d'arte, il ruolo di una città che anche con la scoperta della domus del chirurgo ha veramente passato gli oceani ed è diventato un luogo ben noto e conosciuto per quello che è il suo patrimonio e per quelle che sono le risorse, i suoi musei, i suoi patrimoni, nonostante sia una città che ha conosciuto anche la distruzione di un terremoto e forse una delle più martoriate durante la seconda guerra mondiale. Quindi una città che veramente ha anche perso molto, nonostante questo ci restituisce ancora una vitalità e una bellezza infinita. Dicevi che quest'anno ci si apre anche a scenari mediterranei e alla necessità di preservare il patrimonio storico, il patrimonio culturale, non soltanto in appunto territori come il nostro dove... Non si guarda solo al nostro paese, si guarda ben più lontano. Ma in tutto il mondo dove il patrimonio culturale è a volte anche molto a rischio. Non potevamo prescindere da questi ultimi anni, non potevamo prescindere da ciò che è successo in Medio Oriente, da una tragedia che veramente non è soltanto scomparsa di scenari belli, di scenari importanti, ma è anche il segno del rischio di cancellare, di dimenticare o di tentare di azzerare una cultura e quindi tutta una memoria. Una memoria che serve proprio per chi verrà, serve proprio per prepararsi a vivere il futuro. Ci sarà e non mancherà naturalmente il Presidente dell'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, il Professor Angelo Varni, che sentiamo in questa intervista. Anche quest'anno, come tutti gli altri anni, abbiamo la partecipazione di studiosi, uomini di cultura, che partecipano ai tanti dibattiti e ai tanti incontri che animeranno il Festival. In particolare si parla di patrimonio, di patrimonio culturale che rappresenta appunto l'eredità che le generazioni antiche hanno lasciato al presente. E un Festival del Mondo Antico non può essere altro che partecipe di questa vicenda, che vede un accumulo di presenze, di tradizioni, di suggestioni storiche, che poi vengono rivissute da ogni generazione nei diversi presenti che si sono alternati l'uno all'altro e che adesso non possono che essere proiettati da questo presente nel futuro. Quindi ci sarà un dibattito su queste tematiche, ci sarà un modo di far conoscere il passato e attraverso questo capire come le diverse comunità regionali e non, anzi le comunità del Mediterraneo, hanno vissuto questo passato e forse, speriamo, siano in grado di valorizzarlo per capire meglio e inserirsi meglio nel futuro. Ci sarà anche un focus sul mondo arabo e sulle ferite che le aree di guerra hanno ancora visibili e aperte? Certamente, il mondo arabo ha lasciato straordinarie e bellissime eredità nei secoli antichi, ora ci sono vicende belliche che creano ferite molto profonde e che speriamo lo stesso mondo arabo sia in grado di superare, di ricucire, ne parleremo, vedremo di capire i perché e vedremo di capire che cosa è possibile fare per superarle. Antonella, il professor Varni ci introduceva a tutti i temi, a molti dei temi di cui si tratterà in questi tre giorni che vanno dal 10 al 12 di giugno, quindi prossimo weekend, prossimo fine settimana per chi vorrà passare una giornata nel riminese non soltanto pensando magari all'aspetto del ludico ricreativo della spiaggia oppure del buon cibo ma anche pensare all'aspetto che va a nutrire la cultura, quindi si parla del mondo antico, ci sono tanti ospiti, vogliamo appunto presentarne alcuni? Sì, saranno tanti, saranno con caratteristiche diverse e quindi ci daranno veramente tanti dettagli su questo ereditario futuro che andremo a scoprire in questi tre giorni. Mi piace ricordare che cominceremo venerdì sera alle 21, dopo una breve cerimonia di inaugurazione avremo un Alexio di Luciano Canfora, chi sono gli antichi? Quale titolo più azzeccato di questo per cominciare un festival del mondo antico? Chi sono gli antichi e perché dobbiamo capire gli antichi? Mi piace ricordare che Luciano Canfora è anche autore del Mulino e per noi qualche anno fa ha scritto un agile libro molto profondo dal titolo Perché gli antichi ci riguardano e quindi continua questa ricerca, continua questo filone di studi per mostrarci come dal mondo antico possiamo trovare soluzioni per il mondo presente che è proprio il tema del festival del mondo antico. Il giorno successivo, sabato, avremo tanti ospiti, mi piace ricordare tra questi Paolo Mattie, stiamo sempre nel mondo antico, il grande scopritore archeologo, scopritore di Ebla e che adesso sta lavorando alla ricostruzione di Palmira. Avremo Fabio Isman, un giornalista quindi dal mondo dell'accademia al mondo dei giornali, al mondo degli inviati. Fabio Isman è stato inviato di guerra, è stato per tanti anni al messaggero, è autore di un libro molto interessante che abbiamo anche qua, i predatori dell'arte perduta e con lui vedremo proprio questo aspetto, cioè la tutela del patrimonio che deve essere anche rivolta al mondo dei furti, al mondo delle rapine, alle grandi trafugamenti dell'arte verso il mondo anche all'estero e quindi sarà interessante capire da lui come è successo e adesso come stiamo cercando di portare indietro tante opere che sono state trafugate. E poi avremo Franco Cardini, un grande amico del Mulino, faremo un viaggio verso l'Oriente, passeremo attraverso città che ormai sono città simbolo dell'immaginario fantastico legato al mondo dell'Oriente, alla Via della Seta e alla Via dell'Oro. Potremo viaggiare con lui attraverso queste città e va ricordato che il festival appunto oltre a essere a Rimini sarà anche in altri comuni della provincia di Rimini e quindi sarà Verrucchio, sarà San Leo, sarà Cattolica e sarà anche a Riccione e quindi per la prima volta quest'anno avremo vari appuntamenti anche in comuni limitrofi a Rimini. Cioè hai parlato dell'inaugurazione che avviene in uno scenario davvero suggestivo ma sono altrettanto suggestivi gli altri scenari che prevedono appunto appuntamenti legati al festival del mondo antico? Sì, saremo spesso nel museo della città e quindi nelle varie sale, nella sala del giudizio e se il tempo ce lo permetterà saremo spesso anche nel giardino del Lapidario che è un posto magnifico dove si può fare un percorso attraverso le iscrizioni che il museo negli anni ha sistemato e recuperato. Saremo appunto alla Corte degli Agostiniani soprattutto per gli eventi serali e saremo davvero in tanti luoghi della città, dalla Domus del Chirurgo a questo nuovo Visitor Center che ospiterà alcuni appuntamenti. Quindi insomma Rimini sarà occupata da questo festival del mondo antico. Andiamo a sentire le parole di Orietta Piolanti dei Musei Civici di Rimini che ci dà ancora altri dettagli della manifestazione Il Comune di Rimini, capitale del mondo antico per il festival dedicato a questo tema Sì, già da 18 anni il Comune di Rimini organizza, promuove questo festival che vuole appunto coniugare l'antico con il presente, l'antico di Rimini che fa capo a un territorio che ha tanta storia da raccontare fin dalla Romanità e ancora prima e il presente di una città in grande crescita, in grande movimento. Con un festival che appunto unisce questi due aspetti, l'antico e il presente e che ha una particolare attenzione anche ai giovani perché già da diversi anni accanto al festival del mondo antico è nato Piccolo Mondo Antico Festival riservato proprio ai più piccoli a partire dai 4 anni fino all'adolescenza una serie di appuntamenti che vogliono coinvolgere i bambini e i ragazzi rendendoli partecipi attivi del museo, di tante attività che si svolgono all'interno e quindi per scoprire il nostro patrimonio, un patrimonio ricco che ha ancora tanto da raccontare una scoperta che avviene in modo giocoso attraverso caccia al tesoro ma anche attraverso laboratori in cui mettere le mani in pasta perché riteniamo che sia sempre più importante per i bambini appunto muoversi, agire con le mani una cosa che manca loro molto spesso ma anche con altre attività che permettono appunto loro questo avvicinamento questo approccio all'antico e con un'attenzione particolare che abbiamo già sviluppato dallo scorso anno anche per i bambini ipovedenti e non vedenti e qui riservato proprio un'attività che al centro ha la possibilità di toccare gli oggetti della sezione archeologica quindi una scoperta con le mani riservate in realtà a tutti perché tutti i bambini amano appunto toccare e quindi per una volta il museo non sarà proibito toccare tra un po' riprenderemo il discorso legato alla possibilità di far scoprire anche ai più piccoli in maniera divertente ma molto formativa il patrimonio artistico e culturale però vorrei tornare ancora sui protagonisti perché si parlerà naturalmente non soltanto di Medio Oriente si parlerà anche della nostra bella Italia e quindi quando si parla di Italia e si parla di patrimonio culturale la prima cosa che viene in mente è Pompei e quindi si parlerà anche di Pompei si parlerà di Pompei in una tavola rotonda il sabato i protagonisti di questa tavola rotonda saranno il giornalista nonché scrittore Francesco Erbani Pietro Giovanni Guzzo e Andrea Steiner mi piace ricordare che Andrea Steiner è direttore di Archeo e Archeo quest'anno sarà media partner del festival per cui arricchiamo lo staffe anche con un importante media partner Pompei e quindi si discuterà della straordinarietà di Pompei e delle difficoltà di Pompei nell'essere così straordinaria se continuiamo a parlare dei protagonisti mi piace ricordare che ci sarà anche Giovanni Brizzi Giovanni Brizzi è storico dell'età romana dell'Università di Bologna un po' di sana pubblicità con noi ha appena pubblicato un libro sulla battaglia di Canne quindi per il mulino uscirà tra pochi giorni in libreria e Giovanni Brizzi parlerà proprio dell'arte della guerra e della guerriglia nel mondo antico in un dialogo con Gastone Breccia che invece guarderà la guerra e la guerriglia nel mondo contemporaneo quindi un confronto tra mondo antico e ancora una volta mondo contemporaneo attraverso le arti della guerra e quindi sarà uno spunto interessante per leggere un pochino anche la cronaca di tutti i giorni purtroppo e poi avremo Sergio Valzania anche lui autore e giornalista e poi avremo tanti altri protagonisti avremo anche delle quote rosa avremo Maria Giuseppina Muzzarelli che porterà una testimonianza credo davvero significativa sull'uso del velo l'uso del velo nel mondo occidentale e l'uso del velo nel mondo orientale in un dialogo con Hugo Berti vedremo un pochino di capire come forse le radici del mondo orientale sono molto collegate le radici del mondo occidentale e poi avremo Angelica Montanari con un tema molto forte e cioè l'antropofagia come oblio del nemico quindi ancora una volta il tema della memoria o dell'oblio della memoria letto attraverso le pagine di un libro di Angelica Montanari il Fiero Pasto dove proprio il centro è l'antropofagia nel mondo antico e nel mondo medievale e quindi insomma i temi come vedete sono davvero molto articolati e Valeria dicevamo appunto ha introdotto poco fa nell'intervista Orietta Piolanti una parte dedicata proprio ai più piccoli l'importanza di tramandare il patrimonio culturale quindi di far conoscere e di far scoprire le bellezze ed educare quindi anche ad avere rispetto di questo patrimonio è importante a partire dai più piccoli e dunque c'è una parte dedicata a loro la parte del festival, un piccolo mondo antico festival veramente ha un'importanza straordinaria per la varietà degli appuntamenti perché non sono solo laboratori, sono incontri, sono dialoghi sono momenti in cui i ragazzi si sentono protagonisti non sono soltanto destinatari di quello che dicono gli adulti ma per esempio lavorando i materiali, potendo realizzare delle cose acquisiscono anche qualcosa di più rispetto a ciò che ad esempio poi propone la visita al museo l'oggetto che tu vedi nella vetrina la parola che ti arriva dagli altri quando ne sei stato in qualche misura il primo artefice in un momento in cui ti si è data la possibilità di vivere attivamente il rapporto con qualcosa di diverso qualcosa che ha anche il sapore della fiaba che ha il sapore dello spettacoloso rispetto a quella che è anche la fantasia di un bambino ma devo dire che quello che mi piace sottolineare del piccolo mondo antico festival è che rientra poi in tutta quella progettazione di lavoro che il museo svolge tutto l'anno perché l'attività didattica del museo di Rimini del museo Tonini è un'attività riconosciuta proprio a livello scolastico nasce dalla capacità di lavoro delle due funzionarie che dialogano con la scuola che sono Angela Fontemaggi e Orietta Piolanti e che c'è un tessuto anche scolastico locale particolarmente sensibile tutti gli anni i ragazzi del liceo sono stati anche loro tra i protagonisti del festival con le loro iniziative iniziative svolte insieme al museo svolte insieme ai loro professori quindi c'è un comune c'è una realtà culturale locale impegnata e con continuità il dialogo con l'Istituto Beni Culturali che passa anche attraverso una legge regionale la legge 18 è molto forte e la costruzione di questo festival insieme anche alla società editrice Il Mulino che ormai da 4 anni ci accompagna in questo percorso è quello di dare sempre a questo territorio un respiro molto ampio e farne luogo di accoglienza per opportunità culturali un'accoglienza veramente trasversale del resto Rimini è stata sempre definita un boccaporto un luogo che guarda l'Oriente così come il suo appennino così vicino già ci porta verso invece gli orizzonti del Tirreno e in fondo anche questo passaggio da Cattolica da Verucchio, da Riccione, da San Leo ci parla proprio di un tessuto di una realtà che geograficamente e poi culturalmente ha subito influssi diversi e continua a restituirceli Un aspetto molto curioso è che si potranno toccare le opere d'arte quindi il patrimonio artistico di solito si dice giù le mani dalle opere d'arte invece in che modo e perché appunto sarà possibile fare questo? Sarà possibile perché alla presenza comunque di chi lavora regolarmente nel museo gli oggetti verranno ricreati guardando anche quelli che sono gli oggetti veri cioè lo spunto e questo discorso del toccare mi fa venire in mente un'altra compagine che non è quella regalata ai bambini ma è quella regalata agli ipovedenti c'è tutto un percorso all'interno del festival dedicato agli ipovedenti la possibilità per loro di toccare e di acquisire attraverso il tatto quell'immagine che loro non vedono attraverso gli occhi cioè il recuperare quindi il piacere di sentire dalla granulosità di una ceramica all'epidermide di un mosaico avere proprio la possibilità di concepire direttamente cos'è quell'oggetto cos'è quel bambino cos'è quel bambino cos'è quel bambino cos'è quel bambino cos'è quel bambino